Buon Mercato ha un sito internet, buonmercato.info è l'indirizzo, in questo sito ci sono tutte le categorie merceologiche divise per generi, frutta, verdura, carne, pesce, eccetera, formaggi di così, con appunto la quantità indicativa e il prezzo, un'ordina, una zucca, una, due e appunto su questo sito si compone il proprio ordine, non è una spesa online, non dovete fare niente se non registrarvi con un vostro user password che però è vostro per poter accendere allo strumento, si ritira tutto quanto, no scusate, il portale chiude gli ordini di tutti i soci e il criterio è si acquista in gruppo, diciamo noi che non è uno che vende ma sono tutti quanti in gruppo che acquistano, il portale chiude gli ordini di tutti i soci lunedì a mezzanotte, si chiudono, quei prodotti che sono stati ordinati entro lunedì a mezzanotte quindi c'è tempo fino a lunedì, si ritirano il venerdì sera successivo dalle 18 alle 21 o il sabato mattina dalle 10 alle 13, si ritirano presso la sera che è in questo momento al parco Cabassina a Corsico, all'interno del parco Cabassina signora Scuola